Gentili telespettatori, buona giornata. E così arriva anche la stoccata di Landini sulla Schlein e il suo ritiro in questo luogo di lusso, perché dove il PD andrà in conclave, andranno lì in ritiro, un po' come i calciatori che si ritirano perché devono affrontare delle partite importanti, il PD si ritira, come fece Prodi e non gli portò fortuna, si ritirano in un convento. Un convento che poi, parliamoci chiaro, è una sorta di resort di lusso, di stra-lusso. E così non le manda a dire Maurizio Landini al Partito Democratico e alla sua amica Elena Schlein. Siamo sulla 7 nella trasmissione In Altre Parole e si parla sul ritiro di lusso a 5 stelle organizzato da Elena Schlein. D'altronde una che ha l'armocromista, credete che porta in ritiro in un albergo 3 stelle o 2 stelle? Direi proprio di no. Perché, attenzione, quello che è un convento, uno si immagina che vanno in una grotta, no, vanno in un resort extra-lusso con la spa, nell'hotel ai cappuccini a Gubbio tra il 18 e il 19 di gennaio. Quindi non è che vanno in ritiro in un convento insieme ai frati a pregare, no, vanno in un resort extra-lusso ai cappuccini. una scelta un po' lontana dalla sinistra e dall'immagine che dovrebbe dare l'immagine vicina ai poveri, agli ultimi. Il PD si ritira nel resort extra-lusso. Nello studio di Massimo Gramellini c'è il sindacalista Maurizio Landini che lancia una frecciata, dice quando il 50% della popolazione non va a votare è perché la gente non si sente ascoltata o rappresentata. Bisogna ripartire dai lavoratori. Ecco, con questo lui ha commentato il ritiro del PD nel resort extra-lusso. Lui dice se questi vanno nel resort extra-lusso quando c'è il 50% degli italiani che non vota perché non si sente rappresentare, si dovrebbe andare non nei resort di lusso ma si dovrebbe tornare ad ascoltare, ascoltare i lavoratori, le persone che lavorano nelle fabbriche, nel commercio. Bisogna ripartire insomma da tutti i lavoratori, non andare ai cappuccini resort extra-lusso. In ogni caso Landini giustifica in parte la leader Dem, dice è segretaria da pochissimo e credo che debba avere il tempo per fare le cose, ci vuole del tempo, di fenomeni, di Maradona in giro non ne vedo tanti. Penso che sia giusto che se hanno scelto lei come segretario che lei faccia il suo mestiere e le sue cose, oppure in molti in questi mesi hanno creduto il vero successore potesse invece essere lui. Allora, da quando è stata eletta la Schlein come segretaria del PD, si continua a dire ma è poco, è appena arrivata, dategli tempo, al posto che dire così dicono vabbè ma dategli tempo è appena arrivata, già solo dicendole dicendole datele tempo è appena arrivata stanno chiaramente ammettendo che non sta andando bene, se no direbbero che va benissimo, invece dicono datele tempo perché il giudizio è negativo, è negativo datele tempo, non positivo datele tempo, chiaro? Quindi visto che questi sono dei fiancheggiatori del PD come Landini e il sindacato, piuttosto che dire la Schlein non è atta per fare il segretario di questo partito, proprio non ci siamo, al posto che dire quello dicono ma diamogli del tempo, diamogli un po' di più. Un invito però declinato dice quello di Landini, quello di fare il segretario del PD, dice così, per quello che mi riguarda io ho ancora degli anni davanti molto difficili da affrontare per il sindacato in una situazione così complicata come non l'ho mai vista e per quello che mi riguarda faccio già una gran fatica a fare il segretario della CGL e voglio lavorare in questi anni per fare tutto il meglio che possa dare perché è giusto che i lavoratori abbiano una rappresentanza degna. Ma io vorrei chiedere a Landini, dice che questo sindacato ha davanti anni difficili, che anche adesso è difficile, mi spiega Landini perché hanno firmato con le categorie dei lavoratori, delle aziende, 22 contratti nazionali al di sotto dei 9 euro lordi l'ora? Perché hanno firmato contratti da 5 euro lordi l'ora? Contratti da 7, 8 euro, 7 euro e mezzo, 8 euro e mezzo? Perché non sono in grado di far avere attraverso e con le aziende delle retribuzioni più alte? L'azienda dice no e basta e voi vi allineate e firmate? Forse perché non avete più la forza di fare scioperi nelle aziende perché gli iscritti ormai al sindacato sono pochi nelle aziende, non è come negli anni 80-90. Forse è per questo, non avete più la forza di affrontare le aziende, le aziende spadroneggiano, se no quale altra risposta può esserci a un sindacato, a dei sindacati che firmano 22 contratti nazionali al di sotto della soglia dei 9 euro che poi era la proposta del salario minimo della sinistra. Ovviamente i 9 euro lordi sono vecchi, di almeno 7 anni, oggi dovremmo parlare di almeno 11 euro lordi, ma sotto gli 11 euro lordi sono molti di più di 22 contratti nazionali, una gran parte. Quindi vuol dire che il sindacato, a ragione Landini, non sta funzionando bene, ma secondo me non sta funzionando bene oramai da diversi decenni. questa è la triste realtà che abbiamo di fronte. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. arrivederci a tutti e grazie.